Ma voi quali film guarderete a Natale? Ebbene sono qui oggi per raccontarvi secondo me quali sono tutte le pellicole a tema natalizio che non potete perdervi e se non le avete ancora viste andatevele a vedere. Ciao sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e azioni. Dunque partiamo con una poltrona per due dove le vite di un broker e di un mendicante vengono stravolte a causa di una scommessa di due ricchi annoiati. La scommessa prevede che entrambi i malcapitati inconsapevoli uno dei due prenda il posto dell'altro. Una volta scoperto il crudele gioco però i due si organizzano per far pagare il dovuto ai due scommettitori. E tra l'altro questa è una pellicola che viene trasmessa praticamente tutti gli anni a Natale. È una cosa impressionante, la sera alle 21 e 10, 21 e un quarto, su Italia 1, una poltrona per due. Ormai è una cosa che succederà sempre, non prevedo che smetterà questa abitudine. Vi aggiungo poi anche Edward Magni di forbice. Qui Johnny Depp che interpreta un ragazzo che si ritrova con delle lame di forbice al posto delle mani rimane solo dopo la morte dello scienziato che lo ha creato, ma una famiglia lo adotta. La gente del paese lo evita a causa della sua diversità, ma questo non gli impedisce di trovare l'amicizia di una famiglia. Molto toccante tra l'altro perché qui c'è un po' il tema della diversità, un po' il tema di uno che si sente estraneo alla massa e che quindi deve essere accettato. E il tema di Natale è un po' da sfondo in tutto questo, in queste due pellicole diciamo. Infatti andando avanti elencherò anche di film dove c'è proprio Babbo Natale, quindi Natale entra ad avere un pochino più di rilevanza, cosa che qui è soltanto di contorno. Non poteva mancare, ma mi ha perso l'aereo. Qui il piccolo Kevin viene lasciato a casa da solo a Natale e deve difendere l'abitazione da due malintenzionati che vogliono entrare. Per farlo impiega tutta la sua astuzia e una serie apparentemente interminabile di trappole e di espedienti mirati a far desistere i due malcapitati ladri. E comunque non perdetevi nemmeno il sequel di questo film perché è ancora più bello. Questo rimane un cult, però comunque il secondo, ovvero Mammo Persolerio, mi sono smarita a New York, ha avuto moltissimo successo e tra l'altro ha fatto talmente ridere che me lo riguarderò tutti gli anni. Proseguendo non potrete perdervi il Grinch. In questa pellicola la ragazzina Cindy Lou è una bambina che vive nel paese chi non so e in prossimità dei festeggiamenti per l'arrivo del Natale convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico che vive con gli oggetti presi dalla discarica. E tra l'altro non poteva che interpretarlo il nostro Jim Carrey che sta perfetto nel ruolo del Grinch. Successivamente aggiungerei anche Miracolo della 34esima strada dove il protagonista Chris Kringle viene assunto da un grande magazzino con il compito di distribuire doni ai bambini. Il successo è immediato e inaspettato, forse anche a causa dell'autenticità del personaggio che sostiene con incrollabile sicurezza di essere il vero Babbo Natale. E qui finalmente si entra un pochino più nel tema di ciò che è il Natale, no? Inizia ad essere anche un po' meno di sfondo e un pochino più protagonista della pellicola. Abbiamo poi Nightmare Before Christmas, film d'animazione in cui abbiamo il nostro Jack Skeleton che è il re della città di Halloween e che ogni anno organizza l'omonima festa facendo felici tutti i cittadini. Poi casualmente scopre il Natale e decide quindi di portarlo al suo paese con esiti però del tutto imprevisti. Ed ora basta parlare di Natale o di Babbo Natale. Infatti non potete perdervi anche il film Elf. Qui un uomo, adottato anni prima da uno degli Elf di Babbo Natale, dopo essere stato trasportato per errore al Pado Nord quando era ancora bambino, abbandona il laboratorio dei giocattoli e si reca a New York per mettersi alla ricerca della sua famiglia. Parlando invece di film dove il nostro Babbo Natale è protagonista, non potete assolutissimamente perdervi Santa Claus, pellicola in cui Scott, protagonista, è un padre divorziato che ha in custodia il figlio durante la notte di Natale. Dopo aver accidentalmente ucciso un uomo vestito da Babbo Natale, Scott viene trasportato magicamente al Pado Nord, dove scopre di dover prendere il posto dell'originale Babbo Natale. Si vuole comunque garantire che il Natale non sia un fallimento completo. Questa è stata una delle pellicole che mi ha un po' fatto immaginare come era di più il mondo di Babbo Natale. E tra l'altro ha avuto anche un gran successo, infatti ne hanno fatto una trilogia. Il secondo, vero che fino a fatto Santa Claus, è anche il terzo Santa Claus e nei guai. Ha interpretato comunque il nostro Tim Allen, che interpreta il nostro Babbo Natale molto bene. Anzi, vi faccio anche i complimenti. Per concludere, vi aggiungerei anche Qualcuno, salvi il Natale. Qui due fratelli e Scogita hanno un piano per catturare Babbo Natale. Quando il piano fallisce, i bambini si ritrovano insieme a lui e ai suoi elfi a salvare le vacanze prima che sia troppo tardi. Ognuno di questi film che vi ho elencato dovete assolutamente vederlo, perché vi lascia comunque qualcosa dentro, qualcosa legato alla magia del Natale. Hanno tutti comunque una morale, quindi un insegnamento, qualcosa che vi rimane sostanzialmente. Quindi dovete assolutamente guardarli. Detto questo, vi ringrazio di aver seguito questo video. Vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto. E noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.